Ennesima predazione del lupo sempre più vicino ai luoghi abitati. Questa volta le immagini terribili di una pecora sbranata arrivano da Campocroce sul Monte Grappa a quota mille metri. Il povero animale faceva parte di un gruppo di ovini, bovini e anche asini che vivono attorno alla malga Campocroce e che sono oggetto di attrazione e interesse per i tanti bambini che nei fine settimana frequentano con le famiglie il luogo della nostra montagna. Un danno economico ma soprattutto un danno affettivo per i gestori della struttura che da sempre curano le loro bestie. Per non parlare del senso di impotenza e della rabbia che gli stessi malghesi provano di fronte a questi attacchi dei lupi diventati ormai ingestibili.